Buongiorno e ben ritrovati su Medline TV, siamo alla settima edizione del congresso mondiale sulla stimolazione all'ovulazione che è organizzato da Ginepro che è uno dei leader in Italia in questo campo. Abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Lodovico Parmegiani che è il direttore biologo, direttore dei centri di ricerca della Ginepro. Buongiorno intanto. Buongiorno. Allora diamo una veloce presentazione di che cos'è oggi il vostro lavoro in questa direzione e soprattutto quali sono le novità se possiamo anticipare. Sì, allora i centri medici di Ginepro lavorano in tutto il territorio nazionale, hanno il quartier generale a Bologna e sono focalizzati nella cura della sterilità di coppia e non solo, diciamo che comunque siamo principalmente focalizzati su queste tematiche e nei nostri laboratori si fa sia attività clinica soprattutto ma anche parzialmente attività di ricerca. Quello che cerchiamo di fare è di aiutare le coppie a coronare il loro sogno di avere un bambino. Oggi, come oggi, è possibile attuare tutte le tecniche che sono a disposizione nello scenario internazionale grazie anche al cambio delle leggi, quindi è possibile fare delle tecniche di fecondazione omologa e anche delle tecniche di fecondazione eterologa con gameti maschili e femminili donati. Ecco, quando parla di ricerca, su cosa lavorate e a che punto siamo? Negli ultimi anni, oltre al tema principale di questo congresso, potrei spiegare meglio anche il professor Filicori, che si focalizza sulla induzione dell'ovulazione e l'esperienza di Ginepro, si basa anche sull'esperienza più che trentennale del professor Filicori, sulle pubblicazioni che sono ormai delle più e tre miliari in questo settore, conosciuto in tutto il mondo. Poi, per quello che riguarda invece la parte laboratoristica, tanto è stato fatto dai centri medici Ginepro per migliorare le tecniche di selezione degli spermatozoi prima dell'inseminazione, per fare in modo di scegliere lo spermatozoi ideale che possa garantirci miglior successo e tanto è stato fatto sul settore del congelamento delle cellule riproduttive, in particolare degli embrioni e degli ovociti e nella tecnica di vitrificazione. Per il futuro su cosa si deve lavorare, secondo lei? Non c'è dubbio sull'automatizzazione dei processi laboratoristici, sul controllo e il witnessing, sulla possibilità di eliminare qualsiasi tipo di errore nei laboratori, ma soprattutto di standardizzare la lavorazione e di aumentare l'automazione. Ringrazio il dottor Lodovico Parmigiani, il direttore dei centri di ricerca della Ginepro, per essere stato con noi e a presto di trovarci su Medline TV. Grazie. Grazie.